Ciao a tutti quanti, allora oggi ho deciso di giocare a Kinauthor, vediamo come andrà Il tuo personaggio è italiano? Sì, no, non lo so, probabilmente, probabilmente no Il mio personaggio è italiano Il tuo personaggio ha a che fare con il mondo dello sport? Sì, fa parte del mondo dello sport Il tuo personaggio è ben giocato a Kinauthor? No Il tuo personaggio vive a Roma? Sì Il tuo personaggio è giocato a Kinauthor? Sì Il tuo giocatore è italiano? No Il tuo personaggio è vissuto a Trento? Non lo so Il tuo personaggio è nato a Vicenza? No Il tuo personaggio è nato nel nord Italia? No Il tuo personaggio è nato nel nord Italia? No Il tuo personaggio è nato nel nord Italia? Sì Il tuo personaggio è Belzano? No Francesco Totti, infatti sta operando di lui E' Francesco Totti E vai, è Francesco Totti Cioè, hashtag Francesco Totti Spero che questo video vi sia piaciuto Tanti ballici in su e un bacio e al prossimo video Ciao